La rotativa del clarion di Spurriver fu distrutta e io fu incatramato e cosparso di piume per aver pubblicato questo il giorno che gli anarchici furono impiccati a Chicago. Io vidi una donna bellissima con gli occhi bendati, in piedi sui gradini di un tempio di marmo. Grandi moltitudini le passavano davanti, volgendo a lei i loro volti imploranti. Nella mano sinistra stringeva la spada, brandendone la lama, a volte colpiva un bambino, altre un lavoratore, altre ancora una donna che tentava di svignarsela, a volte un pazzo. Nella mano destra teneva la bilancia, dentro il piatto della bilancia venivano gettate pepite d'oro da quelli che schivavano i colpi della spada. Un uomo in abito oscuro leggeva da un manoscritto, lei non ha rispetto delle persone. Allora un giovane che indossava un berretto rosso, balzò al suo fianco e le strappò via la benda, ed ecco, le ciglia erano state disciolte dalle palpebre imputridite, i bulbi oculari erano appassiti in un muoco lattiginoso. La follia di un'anima morente segnava il suo volto, ma la folla vide perché portava la benda.